Chiusura in grande stile per la settima edizione dell'Art Festival Poietica, l'esibizione di Alice al Teatro Savoia di Campobasso è stata accompagnata da applausi scroscianti per un concerto interamente dedicato a Franco Bacchiato. Alice ha ripercorso tra brani meno noti e classici il basso repertorio del maestro siciliano, sino all'apoteosi finale dell'era del cinghiale bianco. Alice che non rilascia interviste da tre anni ha fatto parlare la musica, accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guachioli, collaboratore di lungo corso di Battiato.